L'istè di attesa più lunghe, orari ridotti e carenza di personale. Sarebbero questi i problemi nelle sedi epidemiologiche di Modica, Ispica, Pozzallo e Scicli. Mentre a Modica, seppur tra difficoltà di una diminuzione del personale a causa dei pensionamenti, si mantiene comunque un buon regime di servizio, a Scicli, Pozzallo e Ispica gli operatori faticano a tenere il passo. Orari ridotti e personale all'osso mettono in difficoltà gli operatori sanitari rimasti, che cercano comunque di far fronte ad ogni evenienza e necessità pur di garantire il servizio. Il timore di operatori sanitari e cittadini, come segnalato la nostra redazione, è che le continue riduzioni di personale possano portare presto alla chiusura delle sedi di vaccinazioni di Ispica e Pozzallo e ad un'ulteriore riduzione del servizio su Scicli. Le liste di attesa Modica sono notevolmente aumentate e sono necessari anche due mesi di attesa per gli adulti per il vaccino della meningite C, su cui c'è stata grande risonanza mediatica per i numerosi casi dello scorso autunno. Se come temuto chiudessero altre sedi territoriali, si riverserebbero su Modica migliaia di utenti a cui sarebbe difficile far fronte se non a discapito del servizio stesso. Tuttavia il manager dell'ASP7, Maurizio Aricoda, noi contattato telefonicamente, ha assicurato che ad oggi non è prevista nessuna chiusura delle sedi di epidemiologia di Ispica e Pozzallo e che lievi di servizi possono essere legati solo ad un problema di turni, così come accade anche a Scicli. Un respiro di sollievo anche alla luce del fatto che proprio le vaccinazioni, soprattutto a Ispica e Pozzallo, luoghi di accoglienza di numerose comunità di immigrati, risultano ancora più importanti in termini di sensibilizzazione della popolazione, che per formare uno scudo dalle malattie deve essere vaccinato almeno del 90% della popolazione, al fine di debellare malattie che si credevano scomparse da tempo.